Quando nel 1773 Papa Clemente XIV decide di sopprimere la compagnia di Gesù, era da tempo che varie forze e interessi anticattolici tramavano contro l'opera fondata da Ignazio di Loyola. Sulla morte e la rinascita dei Gesuiti a cavallo tra il 700 e l'800 si è concentrato il recente colloquio internazionale svoltosi all'Università Gregoriana di Roma. Tuttavia, indica padre Martin Morales, professore ordinario alla Gregoriana e uno dei relatori principali del colloquio, le cause dello scioglimento vanno ricercate anche all'interno dell'ordine, un aspetto poco indagato. Forse se la compagnia non veniva soppressa doveva intraprendere una riforma interna all'ordine per poter sopravvivere davanti alla modernità, cosa che non ha fatto perché la soppressione ha evitato il processo di riforma o di chiusura interna per esaurimento del proprio ordine. Dissolta la compagnia si apre un vuoto che in diverse circostanze si cerca rapidamente di colmare. Padre Miguel Coy, docente incaricato alla Gregoriana, individua due momenti che preludono alla rinascita dei Gesuiti. L'anno 1801, quando il Papa Pio VII ha riconosciuto il gruppo di raccolti nella Russia bianca che erano stati protetti dalla zarina Caterina II, i privilegi di cui hanno goduto i Gesuiti polacchi della Russia bianca, sono stati estesi nel 1804, anche da una decisione del Papa Chiaramonti Pio VII, agli Gesuiti delle due Sicilie tramite il breve per alias. E quindi dal 1804 siamo in pieno impero napoleonico e si poteva intravedere che in un futuro più o meno vicino eventualmente potrebbe essere qualche ripristinamento. Il colloquio alla Gregoriana si è tenuto sullo sfondo delle celebrazioni per il bicentenario della ricostituzione della Compagnia di Gesù avvenuto nel 1814 per volere di Pio VII. Lo scorso 27 settembre anche Papa Francesco, celebrando i Vespri nella Chiesa del Gesù, aveva voluto ricordare la prova patita dal suo ordine. Davanti alla perdita di tutto, perfino della loro identità pubblica, non hanno fatto resistenza alla volontà di Dio, non hanno resistito al conflitto cercando di salvare se stessi. La Compagnia, e questo è bello, ha vissuto il conflitto fino in fondo, senza ridurlo, ha vissuto l'umiliazione con Cristo umiliato, ha obbedito. Le parole del Santo Padre, devo dire, non soltanto perché sono parole del Santo Padre, ma anche hanno una pertenenza storica molto grande. La Compagnia, si sa, è un'istituzione che deve essere molto legata per un voto speciale, poi tra l'altro al Santo Padre. Quindi penso io che non aveva altre opportunità, altre possibilità che accettare quest'ordine, e forse, senz'altro, l'ordine più difficile di accettare, che era la propria dissoluzione, la propria morte in definitiva, che poi ha visto, ringraziando Dio, una ricostituzione 40 anni dopo.